Ok, benvenuti su Evoland, in compagnia di Alex. Salve a tutti! Nel senso l'ho scaricato dall'HumbleBundle, non so che cosa tratti e quindi adesso lo vedremo assieme. Il tedesco è una bellissima lingua, è un gioco fantasy in tedesco, Zuruch! No, che sarebbe Zuruch, non so perché... Fate l'amore con il sapone! Vabbè, usiamolo in inglese. Il tedesco non era male. Allora, questo gioco qua dovrebbe trattare dell'evoluzione dei videogiochi, quindi... Ok, quindi... Prendendo la testate dei forzeri si sblocca il gioco, praticamente. Ok, quindi adesso ci si muove in 2D. Ma tra l'altro la botta tremenda che gli tira... Si, magari il video non rende, però senti proprio il tonf della testata. Si, esatto. Ok, movimento. Stonf. Hai guadagnato i sound effects. Ok. You got smoother scrolling. Benissimo. Ah, ok. Quindi non c'è più mal di testa, la telecamera ti segue praticamente. Non c'è più la botta in testa dei forzeri. No, la botta in testa no, nel senso, vedi che la telecamera ti segue adesso. Non è che quando arrivi in fondo passa nello schema dopo, come succedeva tipo in Abe. Esatto, quei giochi proprio. E' questa grafica molto da Game Boy. Si, ma i pixel sono anche tra l'altro in rilievo, i pixelini piccoli. Hai guadagnato una spada per uccidere i mostri cattivi. Ok, con... No, e anche tagliare... Tagliare, esatto. Tagliare i... Come cavolo si chiamano? I chesspulli. Infatti è un gioco di giardinaggio. Mettere i mostri e noi ce ne frega niente. Questo qua è tipo Gardening Simulator. Però 1980. Hai guadagnato i mostri. Ok. Ma senti il suono che fanno. Con quale voce? Eh. Ok. Quindi di qua non c'è un caso. Aveva un forziere e lì l'altro. Hai guadagnato una musica. La musica ci sta. Ok, andiamo. Cos'è questo? La sfera Poké. Non so. C'è un Bulbasauro dentro. Ah, save points. Ok. Game save. Benissimo. Perfetto. Sei al sì. Quindi posso salvare quanto voglio? Sì. Salviamo. Torna indietro che Mario non l'hai salvato. Sì, torna indietro. Ho fatto due passi, è meglio salvare. Questi qua posso tagliarli? No. Cactus. Ah, questo è sempre acqua. Poi c'è un Bulbasauro lì. Catturiamolo. No, sono morto come una merda. Ho fatto bene il gioco. Il gioco, vedete, ha un pixel. Ah, ma è finito proprio così. Devi salvare. Ma ho salvato. Poi c'è l'Odd Game. Ah, continuo. Ok. Ma ho una vita e ogni volta devo tornare indietro al titolo. Salviamo di nuovo perché sono tornati indietro al titolo. Ancora ancora ci fossero altri pipistrani magari. Oh, che figo. OMG color. I rani fanno un po' schifo anche così. Ma non so se sono rani o se sono tipo octopus. Ok, tagliamo quest'altra. Tagliare i... È un proiettile. Cos'è che è una roba? È un sasso. Un sasso. Come hai fatto a scambiarlo con un proiettile? Scambio tante cose. Per i proiettili. Esatto. Mamma, ho portato a casa un proiettile. Ma quello è un cane. No, è un proiettile. Oh, madonna. Che strategia. Guarda che il pipistrello lì prima ha fatto il danno. Sì, ma devo stare attentissimo ai pipistrello. Tagliamo questi... Vedi, vedi, poi scambio io delle cose. È un blocco gigante. Minecraft. Oh, oh, oh. È uno shotato un pipistrello. Siamo forti. Save point. Ok. Questo cos'è? Hai sbloccato la schermata iniziale. A short story of adventure videogames evolution. Eh, vedi? Siamo nel mondo di Evolandia. After centuries of peace. Centuries. Cioè, poi mi dicono centuries che dico che è centuries. Io posso saltare tutto, vedi? Sì, noi della saga, della storia. Ok. Hai preso una storyline. Benissimo. Sono contento. Che ne sappiamo più di prima. Oibo. Ok. 256 color. Che poi i pixel, quando uccidi i mostri, sono carini. Sì, sì, sì. Esplodono. Ma perché non sono fatti come a 8-bit? Double kill. Killtacular. Ok. Ho guadagnato un pannello. Sono i cartelli di una volta. Ah, ok. Sono le avventure agili. Questo pipistrello mi mette ansia. Ok. Ok, proseguiamo. Esomiglia vagamente al Link di Zelda adesso. Eh, sì. È proprio molto simile. Sì, proprio nel Game Boy. C'è capelli biondi. Dimensional stone. Prova il patto dell'estero. Volevi dire traduzioni. Oh. Movimenti free. Vedi che, come in Zelda, che puoi muovere... Infatti adesso stai scivolando sul... Guarda quando cammina, tipo, vedi? Tipo moonwalking. Sì. Ma si muovono? Sì, si muovono. È vivo. È vivo! Ah, devo andare da dietro. Pam, pam. E calci in culo proprio. Ok, quindi questo qua da dietro mi muovo. Ok, così è un po' ambigua la cosa. Sono morto. Sei morto perché ti ha fatto una puzzetta, probabilmente. Probabilmente sì. È ogni volente. È ogni volente. Benvenuti, rimuovo su Evil End. Benvenuti, è un gioco che rompe il cazzo. Ok, continuo. Voglio arrivare fino alla grafica 3D. Sì, non credo che ci sarà. Ma questo qua, se io li aggirassi in scioltezza così, che poi magari la grafica... Ho un inventario. Con tab, apro l'inventario. Eh beh, è la spada. È una spada, un buco vuoto e un buco vuoto per là. Ok, questo non me ne faccio niente. Magari la grafica 3D diventa Doom e torni sul video che è caldo. Sì, torno all'inizio del video. E muori, e muori. No, no, no. Ok, ma tra l'altro muoiono con questa... Ok, questo si sveglia. Ma è bello dormiente prima, ma puoi anche camminare. Ma perché magari mi deve dare qualcosa. Evaland, il terzo video di Evaland. Benvenuti alla quarta puntata di Evaland, questa serie fantastica che stiamo facendo. Siamo ancora a sbloccare la grafica 3D. Ma io li mando a cagare e me ne va. E uccidi Batman. Guarda con che scioltezza. Tanto adesso abbiamo i movimenti liberi. Ma questi qua non posso comunque... Mi sa che se tu uccidi quelli lì, sblocchi la stralla. Esatto. Devo ucciderli per forza. E sai quei giochi che devi fare una piruetta, contare fino a 30 e poi rotturare per terra e poi sblocchi la strada. Però sono nei giorni dispari delle notti di luna. E quando non c'è mercato, giovaniglia. Sì, esatto. Ok. Oh. Oh, ok. E questo se ne va. Ora svegliamo questo con molta nonchalance. Wewewe, bastardo. Ok. Stiamo andando benissimo. No, no, no. Oh, ce l'ho fatto. È guadagnato un altro patto. Sì. Pensavo di essere morto. Oh, l'overworld. Quindi la mappa gigante. Quella tipo Final Fantasy. Però c'è il giochino che ci dice dove andare. Oh, turn by battle. Quindi battaglia a turni, dai. Puoi cambiare il testo. Esatto. Pokémon. No, Pokémon o Final Fantasy. No, quello è che Final Fantasy, il primissimo. Sì, poi paro paro Final Fantasy. Tra l'altro, vedi, ho tipo la spada wireless. Esatto. Vedi, avanzo. Vedi qua. Oi, boh, sei fermo. Sì. Hai guadagnato 50 gliss. Gli ho minacciati con la spada e sono morti. Posso andare al corno da pagare con i gliss? Non credo che li accettino. Però se li minacci con la spada wireless... Eh beh, mica. Oh, guardalo. Questo diventa ancora più carino. Doppio. Due slime. Vedi, l'evoluzione tecnologica. Perché prima i nemici erano solamente uno. Sì. Poi c'è anche una barretta del tempo che si riempie, ma non so cosa serva. Eh, perché tocca a te attaccare, quindi. Ma noi schiacciamo a cazzo, quindi. Ok. Vabbè, sei morto. Perfetto. 100 gliss. Adesso è bloccato anche il fatto che gli ultimi, mi sembra. No, lo so. Lo faceva anche prima. Sponso. Ok. Il nome del posto. Ah, ok. The Middle. Perfetto. No, questi qua non li voglio uccidere. C'è un'altra roba da prendere a testate, mi sembra. Ma guarda, ce ne sono troppi. Vabbè, io salvo dai. Per adesso salvo dai, basta. Questo era Evoland. Oh, Ivoland, non so ancora come si pronunci. Gioco carino. Dove devi prendere a testate dei forzieri per avere il gioco stesso. Beh, però... Bello, bello, molto bello. È carino, perché in effetti ripercorre tutte le varie tappe dell'evoluzione dei videogiochi. Chissà, magari un giorno riusciamo ad arrivare alla fine con la grafica in 3D, Halo che passa sullo schermo. Halo proprio, c'è l'anello che passa. Lui l'anello, i cover. E io con la spadina. Esatto. Vabbè, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, fate... Pagate, spammate. Una fetta di culo, no? Sì, una fetta di culo. Guardate, chiedetelo anche parenti, zii, amici, gente che magari non vedete da anni, sentitela. Esatto, è un'ottima occasione per incontrare gente che non sentite da tanto tempo. Sai che quei due l'erroi che stanno a fare i gameplay, spammiamoli un po'. Ragazzo, vediamoci per un tè e intanto iscriviti al nostro canale. Esatto. Va bene, alla prossima. Ciao. Ciao.